Cagli è sempre la capitale della pipa. Dal 19 al 21 maggio, all'ombra del torrione di Francesco Di Giorgio Martini, mastri pipai, maestri artigiani, appassionati, collezionisti e cultori del fumolento, si ritroveranno nella ventitresima edizione della Festa della Pipa, che si presenta in versione rinnovata attraverso l'organizzazione del Piva Club Italia. In programma, espositori, conferenze e mostre legate ad una professione dell'artigianato d'arte tra le più antiche e raffinate al mondo. Si comincia il 19 maggio con una giornata dedicata agli specialisti del settore che sfocerà nella suggestiva Affumicena. Sabato 20 maggio verranno aperti gli stand degli espositori, punto di forza della manifestazione che proseguirà anche la domenica, giorno della gara. Andrà infatti in scena la prima prova del 52esimo campionato italiano della Pipa, organizzato con il Fano Pipa Club. Un evento per appassionati collezionisti, ma anche per un suggestivo weekend tra storia, arte e natura nell'affascinante Cagli.